La Regione Marche è stata udita dalla nonna Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sul nuovo contratto di programma di rete ferroviaria italiana. Un contratto di programma che dovrà contenere necessariamente un potenziamento delle linee ferroviarie, non solo delle Marche, ma anche del centro Italia in nome della sostenibilità. Ricordiamo che le ferrovie sono un'infrastruttura più green, dove soprattutto possiamo trasferire dalla gomma al trasporto ferroviario il carico merci che giungerà lungo le nostre coste dai porti di Taranto e di Gioia Tauro. Quali sono gli interventi che abbiamo richiesto? Innanzitutto un potenziamento come alta capacità dell'Ancona-Roma con il finanziamento del terzo lotto che concluderebbe gli interventi previsti nella nostra regione per il potenziamento di quella linea ferroviaria. E poi la necessità del potenziamento e della progettazione della tratta ferroviaria da Fabriano e Foligno per superare la dorsale appenninica. Ma ancora una nuova linea di alta velocità nella tratta Bologna-Lecce per alleggerire il traffico lungo la costa adriatica e infine il completamento dell'anello ferroviario delle Marche che unisca le nostre cinque province ma soprattutto che scarichi traffico da Ascoli-Piceno fino ad arrivare a Durbino sulle due tratte principali, sulla Adriatica e sulla Roma-Ancona.